Una squadra che lavora insieme da due anni, quindi con lo stesso tecnico, hanno potuto portare avanti un percorso di lavoro e stanno facendo un ottimo lavoro e tanti ragazzi qualitativi si conoscono bene, organizzati, quindi sicuramente da parte nostra ci vorrà una grande prestazione, una grande partita per portare a casa un risultato giusto. A volte ci sono delle partite che nascono in una certa maniera e purtroppo prendono una piega sbagliata. Noi i primi due tiri siamo andati a cotone preparando la partita come abbiamo fatto nelle precedenti, però poi nella partita ci sono stati degli episodi, soprattutto all'inizio, che hanno indirizzato la partita su certi binari e l'hanno fatta cambiare in tutto perché ai primi due tiri in porta, chiamiamoli due tiri perché il primo è stato un tiro dove dovevamo accorciare con più forza e il secondo è stato un cross. Abbiamo preso subito due gol alle prime due loro iniziative e poi ovviamente sia tatticamente che psicologicamente la partita si è messa su binari più congeniali ai nostri avversari, quindi dobbiamo girare pagina. Sicuramente degli errori sono stati commessi, però fa parte di un percorso, di un campionato dove negli ultimi due mesi abbiamo fatto ottime cose e quindi dobbiamo riprendere alcuni concetti, alcuni discorsi e cercare domani di metterli in campo. Dovrò valutare come tutte le settimane, siamo nel finale di campionato, quindi dovrò valutare le energie, la freschezza psicofisica di uno rispetto all'altro e cercherò di fare le scelte sulla base di quello che sarà inizialmente una prima partita che dovremo fare. Poi in tutte le partite ci sono più partite da sapere interpretare e con la squadra ne abbiamo preparate più di una perché è chiaro che dovremo essere pronti in qualsiasi situazione a sapere andare a fare il nostro nelle due fasi bene, con concentrazione e attenzione. Dobbiamo rimanere concentrati e poi è chiaro ci può stare anche che fra una settimana o due potremmo dire che siamo i 37 punti, possono essere bastati perché magari a quattro partite della fine per come eravamo partiti eravamo già salvi, però lo potremmo dire solo fra due partite, una o due settimane e non prima. Quindi in questo senso noi comunque sia dobbiamo continuare a fare i nostri punti e a raggiungere prima possibile anche per soddisfazione nostra una matematica che dobbiamo ancora conquistare. Non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo pensare a noi, abbiamo avuto partite molto difficili da affrontare, se ci mettevamo a guardare il calendario ci facevamo solo male da soli, giocare contro Napoli, Milan, Fiorentina, insomma fare a Verona, sconti diretti importanti, ad Udine, le abbiamo affrontate tutte nella maniera che dovevano essere affrontate, pensandone una per volta e cercando di fare in ogni partita una partita quasi perfetta perché solo facendo così poi in Serie A pensare di fare il risultato e quindi noi dovremmo cercare di andare avanti su questo indirizzo, quello che faranno gli altri faranno, noi pensiamo al nostro, sappiamo che comunque dovremo giocare la prossima partita, poi dovremo giocare quella con l'Inter e dovremo giocare anche quella con la Roma e in tutte le partite dovremo cercare di fare risultato. Mi sembra quando sono arrivato queste partite erano nel nostro percorso, non ci si aspettava tanto e si sono fatti punti, quindi dobbiamo continuare su quell'idea lì e cercare di dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Mi fa sempre piacere rincontrare un ambiente, una squadra dove magari hai condiviso un grande risultato sportivo, tecnico e sei apprezzato, però questo fa parte del lavoro e è chiaro che sono ricordi molto belli che ovviamente non si cancellano, è una vita professionale, umana di un professionista e di una persona, di un uomo. È chiaro che poi magari giustamente quando si andrà in campo io dovrò pensare a quello che è il mio lavoro e cercare di farlo nel miglior modo possibile con i miei ragazzi e la mia squadra.